Raoul Dumitras rompe il silenzio e commenta la sua ex Martina de Yonon sul trono di uomini e donne. Ciao a tutti e grazie per essere tornati nel canale. Scriviti al canale per restare sempre aggiornato. L'ex volto di Tampation Island ha poi fatto chiarezza sulle frecciatine con Lino Giuliano. Raoul Dumitras ha finalmente rotto il silenzio dopo la notizia che ha visto la sua ex fidanzata Martina de Yonon salire sull'ambitissimo trono di uomini e donne. Dopo la registrazione infatti del dating show di Maria De Filippi in cui è stato mostrato il suo video presentazione, diffuso anche sui social, in tanti hanno espresso il loro parere. All'appello però mancava proprio Raoul Dumitras. Ed è stato l'ex fidanzato che, rispondendo ad un box domande su Instagram ha detto. Le auguro di fare una bella esperienza. Bella e intelligente, quindi sicuramente si troverà a suo agio. Spero che trovi amore e libertà, leggerezza a questo punto. E a chi gli ha chiesto cosa, secondo lui, deve esserci alla base di una relazione l'ex fidanzato di Tampation Island ha detto. Rispetto, sincerità, serietà e voglia. Il romano ha poi risposto alla domanda. Ti senti cambiato dopo Tampation Island? Ed ecco cosa Raoul ha ammesso. Sì, sono cambiato molto e sto comunque continuando a lavorare su me stesso. Ho fatto i miei errori ma sono stati costruttivi. Per concludere ha detto la sua anche su Francesca Sorrentino che attualmente siede sul trono rosso proprio accanto alla sua ex fidanzata. Francesca mi era piaciuta l'anno scorso. Se ha voglia di rimettersi in gioco fa bene. Infine l'ex volto del reality show delle tentazioni ha poi fatto chiarezza sulle frecciatine con Lino Giuliano. Ma no raga non abbiamo litigato, io e Lino al massimo ci confrontiamo. Io non litigo con nessuno, non avrei motivo, sono inattaccabile. E tu, cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti. Scriviti al canale per restare sempre aggiornato.